Padova capofila nell'utilizzo di un nuovo strumento innovativo che permetterà di salvare chi cade in acqua. Una sacca da lancio, un dispositivo di comune utilizzo nell'ambito del soccorso pubblico. Una sacca di piccole dimensioni con all'interno un galleggiante che tiene il carico di oltre 100 kg e una corda dai colori sgargianti. Un progetto che vuole onorare la memoria dell'agente Domenico Zorzino, morto nel Gorzone tentando di salvare un anziano che era caduto con la sua macchina nel fiume. Quella tragica vicenda è stata lo stimolo ulteriore, pesante, forte che abbiamo sentito a fare qualcosa. In realtà che poi Padova presentasse questa peculiarità di presenza di corsi d'acqua, di fiumi, di canali insidiosi per la sicurezza delle persone era una cosa che avevamo percepito. Poi la vicenda Zorzino sicuramente ha dato la spinta. Fondamentale la collaborazione con i vigili del fuoco che istruiranno gli agenti della questura padovana all'utilizzo di questo nuovo equipaggiamento. È un dispositivo molto semplice ma in realtà uno bisogna saperlo usare perché come tutte le cose vanno fatte bene altrimenti sono negative e non positive. Bisognava anche trovare la collocazione giusta in un baule della volante che porta molto materiale di vario tipo e per questo abbiamo dovuto coinvolgere anche gli uffici centrali della polizia all'epoca rappresentati dal prefetto Messina che è qui con noi e tutto ha combaciato, tutti hanno convenuto che l'iniziativa poteva essere utile ed anche esportabile appunto sul territorio nazionale. Le 30 sacche da lancio sono state finanziate dal gruppo Ali della famiglia Canella. Noi ovviamente facciamo parte del territorio, siamo un'azienda familiare, vogliamo aiutare il territorio perché la nostra missione è migliorare la vita delle persone quindi se noi aiutiamo il territorio con azioni concrete come questa ovviamente miglioriamo anche la vita delle persone.